Dal 1 maggio ad Arezzo arrivano le nuove tariffe dell'imposta di soggiorno, una decisione che nelle scorse settimane aveva fatto discutere, e non poco, gli operatori. Si tratta sostanzialmente di un raddoppio che riposizione il capoluogo nella classifica regionale dove finora occupava una delle caselle più basse. Dunque, dalla prossima settimana, con il weekend che di fatto apre la stagione, entreranno in vigore le nuove tariffe applicabili agli ospiti non residenti con età superiore a 12 anni nelle strutture ricettive del territorio comunale. L'imposta dovrà essere corrisposta per i primi quattro giorni di permanenza e si articola in tre tariffe, 1,50 euro fino a 40 euro di prezzo, 3 per un prezzo compreso tra i 40 e i 400 ed infine 5 euro per un prezzo superiore ai 400. Per quanto riguarda alberghi, affittacamere e Airbnb, le fasce di prezzo si intendono riferite al costo di ciascuna camera. Per le strutture ricettive che invece non vengono vendute a camera ma a corpo unico come agriturismi, case vacanze e locazioni brevi, il costo da considerare per l'individuazione della fascia di prezzo di riferimento sarà quello quotidiano dell'intera struttura diviso per il numero delle camere dichiarate al SUAP o alla regione toscana nel caso delle locazioni brevi. Per i campeggi, infine, la misura dell'imposta riferita ad ogni persona è stabilita nella misura fissa di 1,50 euro al giorno, sempre per i primi 4 e indipendentemente dal costo del pernottamento.